Il Vangelo di oggi Il Vangelo di oggi, che contempla la narrazione della Ressurrezione di Gesù, nel momento in cui le donne vanno al sepolcro per completare la imbalsamazione al corpo di Gesù, si divide in due parti. Appunto la prima è quella dell'apparizione dell'angelo, poi del risorto alle donne, che ricevono l'istruzione di andare a dire ai discepoli che è risorto e che le attende in Galilea. La seconda parte invece riguarda le guardie, le quali assistono all'evento della Ressurrezione, ma in modo limitato evidentemente, cioè sentono il rumore e percepiscono il grande terremoto, la pietra ribaltata, uno dei Vangeli dice che rimangono trammortiti, ma poi vanno al Tempio, vanno dai capi al Sinedrio per riferire i fatti, cioè che qualcosa di eccezionale è avvenuto e colui che era morto non c'è più, perché hanno sentito, visto qualcosa che non era normale. I sacerdoti, i capi, decidono di coprire con la menzogna i fatti riportati. I fatti riportati ai capi di Gerusalemme sono veri, è una parte della realtà e della verità. Questi uomini invece, contrari a Dio, contrari a Gesù e alla fede, agiscono con un'operazione di rilettura della realtà, della verità, la sua alterazione, quella che si tratta della punteggiatura, della ripunteggiatura dei fatti, i quali non vengono negati per una parte, ma viene deformata la realtà in modo tale che la conclusione si diversa. È vero che il sepolcro è vuoto, è vero che c'è stato un terremoto, perché tutti lo hanno sentito, ma nella notte è accaduto che i discepoli sono andati, hanno portato via il corpo del loro maestro per far credere che sia risorto. E questo non deve avvenire. Il mondo dunque si divide in due parti, sostanzialmente. coloro che intendono credere sono gli uomini di buona volontà e coloro che non intendono credere. Non parliamo dunque di coloro che hanno difficoltà a credere, perché gli stessi apostoli fanno fatica a credere quello che il maestro aveva loro profetizzato. E anche di fronte al risorto, già apparso fra di loro, sappiamo come Tommaso ancora resiste. Le apparizioni del risorto dunque sono un premio alla fede che viene graduata discendendo dalle piedonne che vanno al sepolcro fino ai discepoli che invece non credono. Ma costruono non sono impedimento all'azione di elezione di grazia che Gesù ha fatto. Li prende là dove si trovano, nella loro condizione spirituale, va nel luogo dove si sono rifugiati per ricondurli a sé. La misericordia di Gesù dunque non si ferma di fronte alla debolezza degli apostoli e appare loro nel cenacolo due volte nel giro di sette giorni per condurli là in Galilea dove avrebbero dovuto andare, sarebbero dovuto recarsi là, ma non lo hanno fatto per questo blocco di fede che avevano. Gesù non si ferma davanti a questo ma li prende come sono e li aiuta a raggiungere l'appuntamento per la missione verso l'esterno, verso il mondo, che appunto è il mondo della Galilea, parte della Galilea. Diversa invece è la condizione spirituale di coloro che non hanno dubbi di fede e dunque non credono, ma hanno la volontà di non credere, dunque ricostruiscono la realtà con una giustificazione che diciamo a posteriore, cioè cercano tutte le argomentazioni false per sé, per gli altri, per impedire che la verità venga vista, creduta, accettata negli altri cuori. C'è malizia nel cuore di chi non crede perché vuole impedire che altri credano e vuole avvelenare la verità con una ripunteggiatura, una rilettura dei fatti e oggi noi chiameremo fake news, cioè queste notizie falsificate che prendono un pezzo di verità e aggiungono qualche cos'altro in modo da rendere non percepibile più la verità e anzi, metto nel dubbio che anche quelle notizie che sono vere in realtà siano tali. Impedimento alla fede, l'ostacolo, il nome è proprio quello del demonio, Satana è l'ostacolo, quello che si mette di traverso fra Dio e l'uomo e dunque vuole impedire la vera fede. Viviamo un tempo dove le notizie falsificate sono all'ordine del giorno e viviamo in un tempo in cui c'è come una selezione della qualità dei cuori. Ci sono dei cuori migliori, più pronti, quelli che credono, come quelle delle donne che vanno e credono subito. Ci sono altri che dubitano, altri che sono molto distratti, altri che danno peso alle voci, quindi il racconto noi diremmo dei sacerdoti attraverso le guardie, la falsificazione della realtà che ha impedito una volontà non certa forte, volitiva, impegnata, ma distratta dalle condizioni del mondo. Il mondo oggi è così distratto però è chiamato a guardare la profondità del proprio cuore. Mentre invece c'è tutto un altro mondo che cerca di martellare il cuore dei fedeli, la mente dei fedeli o un mondo che cerca di distrarlo con altri problemi, altre riletture della verità e della realtà. Di tutto si parla oggi, ma non si parla della fede. Di tutto si parla oggi, ma non della realtà del risorto, di molte cose si parlano che girano attorno a noi e che purtroppo sono orribili, pensiamo alla guerra e tutto quello che c'è, ma non c'è una lettura secondo la fede di quello che avviene, della responsabilità degli uomini, dell'immoralità diffusa, dei capi delle nazioni che tendono alla guerra e la vogliono per altri motivi. E quando si innescano le violenze e le guerre, partono le ritorsioni e nel cuore di tutti gli uomini, oltre a essere stata asseminata la menzogna, purtroppo è stato asseminato l'odio per il fratello, che è il grande impedimento a vedere Dio. Il cuore si chiude, il cuore cerca solo la vendetta, o cerca giustizia, la giustizia terrena, ma non sa più guardare a Dio e per questo non sa più guardare ai fratelli. ci si chiede dove è Dio, dove è risorto quando tutte queste cose avvengono. E là, è risorto, non è nei nostri cuori, perché non lo abbiamo voluto. O abbiamo lasciato che ci sia stato strappato la cosa più preziosa che abbiamo è la fede di Dio che vive in noi attraverso il suo Cristo, col dono del suo Spirito. e tenere stretto questo dono oggi è l'impresa più difficile, ma è il cuore di tutta la faccenda. Solo con questa unione con Gesù avremo la forza, la visione per poter affrontare le realtà più terribili e raggiungere lo scopo che non è solamente la pace sulla terra, ma la pace nei cuori per poter entrare nella pace del Regno di Dio, quello che è in gioco è l'eternità dei nostri destini, di milioni e milioni di persone che sono distratte e portate altrove per sempre. Dobbiamo dunque essere noi i primi testimoni del Risorto. Dio vi benedica. del Risorto. Dio vi benedica. 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 Dio vi benedica.